Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Call of Duty World at War. Siamo nella metropolitana... Oh che cacchio! E dobbiamo riuscire a liberare... Porco cane! La metropolitana dai tedeschi! Il delirio più... Oh che cacchio! Quando comincia... Infatti io ve l'ho detto che lottare al buio è difficilissimo, non si vede un'emerita c'è... Appena è iniziata la missione l'ho detto che questa era una missione epica... Ma soprattutto molto difficile perché si vede a malapena, si vede! Forza! Porco cane! Basta! Muori! Via 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 via! Via! Oh cacchio! Che cacchio! Via! Via! Dovrei aumentare un po' la luminosità secondo me perché... Forse voi lo vedete bene ma io vedo completamente scuro! Porco cane! Sta pure a rinculare l'arma! Non so perché l'MP40 è sempre fantastico! Ok! Procediamo! Piano! Bene! Dov'è stiamo andando qua? Che è chiuso qua? Che se è una porta in Cesar Vanamazza! Che abbiamo andato all'altra parte! Piano! Chi è questo? Ok! Questo è dei nostri! Qua non c'è passo! Pensate! Dove devo passare qua? Andiamo! Piano piano nella metropolitana! Che figata! Io me la ricordo questa missione era fantastica! Ma sto pezzo non me lo ricordo però! Mamma mia! Dobbiamo difendere Reznov che deve aprire la porta! Su! Oh che cacchio! Sono ossiduri eh! Sono ossiduri questi! Porco cane! Oh oh oh! Mamma mia bella! Stanno in minoranza che riescono nonostante ciò a uccidere che è un piacere! Su! Porco cane! Vieni! Vieni da papino tuo! Vieni pure tu da papino tuo! Mamma mia quante! Oh granate finalmente! Va! Un po' di granate! Un po' di granate! Un po' di granate! Oh il maremoto! Via! Brigate! La pista cacchia di porta! Il delirio! E di sto pezzo della missione non me lo ricordavo per niente! L'arrivo del maremoto qui sotto alla metropolitana non me lo ricordavo! La battaglia di Peleliu si concluse nel novembre del 1944! Tre maledetti mesi più tardi di quanto previsto! Una volta salpati per Okinawa, l'aeroporto divenne un punto vitale nella campagna! Tra gli uomini che lo difendono ci sono i Black Cat della marina statunitense! Uomini che rischierebbero la vita pur di non lasciare un soldatore in acque nemiche! Bello! Start! Si parte! Nuova missione! Sembrerebbe qualcosa con gli aerei militari! Vediamo un po' Che alcune me le ricordo benissimo! Black Cats! Alcune me le ricordo benissimo di missioni! Alcune proprio no! Solo se le gioco! Londri apre i canali di comunicazione! Bello! Distruggi le navi mercantili difendi dalle imbarcazioni! Queste sono i... Oh! Che figata! Bellissimo! Checkpoint raggiunto! Amo namo! Ma senti come... Come sventra sta cacca! Aspetta che devo fa' Ci sta passato un amo namo! Vai! 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 Sbrigate! Cambio! Andiamo di mitragliatrice adesso! Su! Su! Oh! Delirio! 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 Sventriamo le navi! Ho capito! Ma se mi passi sotto... Quando ce sto io... Pure tu si furbo eh! Amo namo! Amo! Sventriamo tutti! Sventriamo tutti! Sventriamo... Guarda che cacchio sto a combinare raga! Ok! Mamma mia! Che giro e devasto puro! Pure ci abbiamo dato già una bella... Una bella botta secondo me raga! Che dite? Perfetto! Difendi dalle imbarcazze... Oh! Cinque distrutte! Vai! Vai! Andiamo... Vai! Vai! Aspetta! Guarda quanti so! Por caccia! La miseria! Su! 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 Delirio! Delirio! Vai! Vai! Quella! Questa! Questa! Forza! Forza! Forza amante! Te voglio proprio... Carica pallettoni! Aspetta! Più di così non saprei che cosa fare eh! Sto da... Del mio meglio sto dando! Cacchio! Ma pure... Pure mezzo coso che si sta distrugge! Vai! Vai! Bam! Andiamo! Andiamo! Brigate! Brigate! Su! 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 Benissimo! Vai! Sventramo tutto! Porco cane! Che cacchio! Gli stiamo affatto ai navi! Forza! Via! 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 Cambio! 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 Pa 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 pa! Passa la macchina della morte! Che cacchio! Mamma mia! Delirio vero! Delirio! Gli ho rotto pure il panale! A posto! Andiamo! Andiamo! Andiamoci a dare un'altra tramba! Con i missili davanti! Corri! Corri! Boom! Boom! Vediamo un po' se... Se incascano manco mo' eh! Se incascano manco mo' Oh! Forza! Eccola! Questa si sta proprio un capretta sotto l'aria! Ve l'avevo sotto... Ancora zero! Ok! Quindi è andata pure questa! A me vede? Mi riesco a vede bene! Sì! Pure questa si è inclinata! Perfetto! Ok! Devasto puro! Guarda come stanno giù! Aspetta attento! Do pure una tramba qua va! Do pure una bella tramba! Mamma mia! Black hats! Delirio dei black hats! Siamo stai veramente devastanti al massimo! Vediamo la torretta va! Che c'è rimasto? Vediamo! Aspetta che arrivo eh! Sono un bel po' comunque eh! Che c'è eh? Greta abbiamo finito! Oh sì! Stanno colando a picco! Ottimo lavoro Locke! Hai salvato molte vite d'Okinawa! Qui abbiamo finito! Prendo quota! Torniamo alla base! Ricevuto! Ce la siamo vista brutta nell'ultimo passaggio! Confermato Hammerhead! Esce fumo dal tuo motore numero due! Gli indicatori non sono solo rosso! Dovremmo essere in grado di resistere! Almeno finché non ci imbattiamo in altri nemici! Oh cazzo! Capitano Arrington! Richiesta di soccorso in arrivo! La flotta è stata colpita! Sulla rotta per Okinawa! Hanno richiesto un supporto aereo! Ma metà della flotta sta già affondando! Almeno un cargo di trasporto panteria è già andato! Ok! No! Sigilla il portello sul vento! Ammareremo sull'oceano! Andiamo a salvare i nostri! Rispondi alla richiesta di soccorso alla flotta! Dipende di dati zero giapponesi! Zero distrutti! Sti cacchio sono sti cacchio dei cosi giapponesi! Amma mia! Sono tanti eh! Dove sono? Eccoli! Dove siete? Dove siete? Eccoli! Eccoli! Mamma mia! Mi stanno a romper il vetro! Vieni! Dov'hai te? Aspetta! Guarda tu dove vai? Ok! C'è un'altra bella botta! Eccolo! Forza! Vi sventro porco ca... Uh! Che cacchio! Rompono l'anima? Vieni! Uh! A posto! No! Cacchio! Vabbè! In acqua! Siamo solo! Ok! La flotta ha ancora bisogno del nostro aiuto! Qualcuno vuole tirarsi indietro? Come pensate? E... Stiamo entrando in zona calda! Vi voglio tutti in guardia e pronti a tutto! Quei bastardi hanno smazzato via gran parte delle nostre navi! Cazzo! Credete che laggiù sia rimasto qualcuno vivo? Vedo molte vittime in acqua! Merda! Come è il bastardo? Allora ragazzi ci fermiamo qui che siamo arrivati nella zona calda della missione Spero che il video sia stato di vostro gradimento Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace al mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale Ciao!